DJ Ringo non le manda a dire. Il direttore creativo di Virgin Radio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere in cui ha ripercorso la sua vita. E non solo. Non ha mancato di fare riferimenti ai volti noti del momento e neanche a chi è noto da tempo ed è al centro del gossip in questo periodo. All'anagrafer Rocco Maurizio Anaclerio. Per tutti da anni è semplicemente DJ Ringo. Abbandonata la carriera di DJ nelle discoteche ha cominciato quella di conduttore radiofonico e oggi la radio è la sua dimensione. Virgin lo è ancora di più. Dopo aver parlato della sua vita notturna negli anni 80, di grandi incontri, tra cui Madonna e Andy Warhol, e della sua vita da studente scolastico, ho ripetuto la terza media perché feci a botte in classe e fui espulso. Il discorso si è spostato sulla radio e sulla musica. Anzi sul rock. Virgin è casa. Ha ammesso. Il suo sogno era realizzare un network rock e lo ha fatto. Se dovesse immaginare una vita diversa da quella radiofonica non riuscirebbe a farlo. Parlando della musica di oggi non è stato molto clemente. Anzi. Ha definito terrificanti i maneschi ne viola. Il panorama attuale pop mainstream invece non fa al caso mio. Pieno di trapper. Di poser. Gente in posa. Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa ca. Re. Ho sentito viola di Fedez e Salmo. Non si offendano. Ma è terrificante. Poteva farla orietta Berti. Se questi sono i giovani che fanno musica. I maneschin? Un parere è un parere. I gusti sono gusti. Li ritiene terrificanti perché, sono un surrogato di un prodotto di marketing. Non li ritiene veri. Ma è pronto e disposto a ricredersi. Dal suo punto di vista per fare rock non si può essere poser. Si aspetta insomma. Un pezzo vero, da parte loro. Ha condannato anche la partecipazione dei maneschi in a Sanremo. Un errore secondo DJ Ringo. Un gruppo rock non dovrebbe presenziare al festival di Sanremo. Perché? Rock ha leggi ben precise. Integraliste. Devi rispettarle. Uscire da un talent come